5 anni dalla chiusura del pronto soccorso notturno dell'ospedale Costantino Cantù di Abbiategrasso. 5 anni dal 12 dicembre 2016, giorno in cui la chiusura della struttura fece spostare da Abbiategrasso a Magenta anche personale medico e infermieristico che al Cantù non è più tornato. Quali prospettive oggi? Per ora nessuna concreta di tornare alla situazione precedente al 2016 con il tema del pronto soccorso che rimane al centro del dibattito cittadino con una riforma sanitaria che nonostante Abbiategrasso sia tra i luoghi papabili a ospidare una casa della comunità per il magentino abbiatense non sembra portare benefici diretti all'ospedale della città. Meno di un anno fa i membri della consulta per l'ospedale avevano anche protestato direttamente con il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana in visita al lab vaccinale in fiera chiedendo un incontro con l'assessora al welfare Letizia Moratti. Nelle settimane successive c'era stata la presenza del consigliere regionale Luca Del Gobbo che aveva promesso di attivarsi per un potenziamento che ad ora non è però arrivato. E infine se è vero che il senso delle case della comunità è quello di rinforzare la sanità territoriale è vero anche che questi presidi hanno lo scopo di affrontare il problema dei medici di base in primis per il pronto soccorso notturno quindi a 5 anni dalla sua chiusura non vi è una luce in fondo al tunnel. Per quanto riguarda invece il panorama generale di contrasto alla pandemia la situazione in tutto l'abbiatense nel magentino rimane sotto controllo. Ad Abbiategrasso resta un solo reparto Covid da 28 posti letto ma dedicato solo a pazienti subacuti quindi a coloro che non hanno necessità del casco per la ventilazione polmonare. Anche la possibilità che il fornaroli di Magenta dovesse riaprire i suoi reparti Covid è per ora scongiurata. Magenta all'interno dell'ASST ovest milanese continuerà a drenare pazienti non Covid da Legnano, lab principale in modo da lasciare solo nell'ospedale più importante la cura dei malati di coronavirus. In una giornata in cui lo stesso presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana si è dichiarato fiducioso sul fatto che la Lombardia rimanga in zona bianca anche per tutta la durata delle festività di Natale e in cui l'RT regionale scende a 1,03 anche il magentino abbiatense sembra quindi arrivato a un nuovo stadio di stabilizzazione della quarta ondata.